Torna la tensione nel Mar Nero e stavolta tra Gran Bretagna e Russia e De Giallo su quanto accaduto. Un caccia e una nave militare avrebbero sperato colpi di avvertimento contro il caccia torpediniere della Royal Navy Britannica HMS Defender a largo della Crimea. Secondo le autorità del Ministero della Difesa russo, l'imbarcazione avrebbe violato le acque territoriali russe entrando nella zona di Capo Fiolent per poi allontanarsi. Circostanza negata però da Londra che ha anche smentito i colpi di avvertimento. In una comunicazione il governo britannico ha riferito che la nave militare stava conducendo un innocente transito in acque territoriali ucraine nel rispetto del diritto internazionale e non ci sarebbero stati incidenti. Persione che contrasti invece con quella di Mosca. Il leader del Cremlino, Vladimir Putin, ha fatto sapere che la Russia è preoccupata per il continuo dispiegamento di infrastrutture militari della Nato vicino ai suoi confini. Una preoccupazione è accresciuta dal fatto che l'alleanza si rifiuta di considerare in modo costruttivo le proposte di Mosca per allentare le tensioni e ridurre il rischio di incidenti. Ci auguriamo, ha detto Putin, che alla fine prevalga il buonsenso e la voglia di sviluppare rapporti costruttivi. L'episodio riaccende comunque i riflettori sul fatto che la Russia ha annesso la penisola di Crimea sul Mar Nero nel 2014 lo ha fatto con un referendum non riconosciuto dalla comunità internazionale.